ciao a tutti oggi vediamo queste bellissime lenti in mezza sfera vengono chiamate proprio così per la loro forma molto bombata sono delle lenti di ingrandimento che si appoggiano direttamente sul piano di diverse dimensioni qui vediamo la proporzione in base a una moneta da 50 centesimi come dicevo sono lenti in vetro ecco lo spessore di quella più piccola qui vediamo quella più grande che è 65 mm quindi 6 cm e mezzo di diametro mentre l'altra è 30 mm vediamo come si vede allora la più piccola che è questa ha un ingrandimento molto forte ha un sette ingrandimenti e qui vediamo come si vede è molto indicata per chi deve leggere e ha difficoltà per ipovisione ad esempio viene fatta scorrere sul testo e per chi ha appunto problemi di vista è un grande aiuto può essere utilizzata anche per monete francobolli mappe qui vediamo la dimensione più grande con meno ingrandimenti quindi si vede molto bene come questa lente rispetto a quella più piccola ingrandisca meno però permette di avere un campo visivo più ampio si riesce a leggere tutta la riga mentre con quella piccolina si legge parola per parola questa ha tre ingrandimenti virgola 5 mentre la più piccola è un sette ingrandimenti il bordo della lente è fatto molto in plastica molto resistente può essere nero bianco qui vediamo con la moneta da 50 centesimi sotto si vedono proprio particolari vi ringrazio per l'attenzione spero che queste lenti vi piacciono le troviate interessanti e se vi interessano è tutto sul nostro video il nostro sito elettronicadidattica.com mi raccomando continuate a seguirci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale youtube ciao a tutti alla prossima ciao 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 ciao